Ogni anno un nuovo protagonista, una giocata indimenticabile, un'emozione unica da conservare nell'album dei ricordi. Lautaro Martínez! Devolo di Angoloso! Fallo darvi le mezzo a Gatti! Ancora noi, nel momento più sforzante! Raffaele Au, la velocità turbinante! Che trema! Lukaku! Lukaku! Può andare, giro, immobile! Incrocia a destra e va a prendersi tutto l'amore del suo popolo. Passa il pallone per Ozymane. Ozymane! Kulbani! Capolavoro! Troppo facile per lui. Rieblinger, Zirkzen! Poboletti! Parabola per la rovesciata! Vado via! Lo spettacolo della Serie A. Una passione che unisce.